Sono stati programmati per venerdì gli interrogatori di garanzia davanti al GIP di Latina per le persone raggiunte da misura cautelare nell'ambito dell'indagine su alcune cooperative che si occupavano di migranti e gestite dai familiari di Abu Bakr Sumauro. Il giudice ha fissato gli interrogatori per la moglie del parlamentare, Liliana Murecatete, e per la suocera Marite Redmuc e Mazzindo. Oltre alle due donne, i militari della Guardia di Finanza hanno dato esecuzione a una terza misura cautelare, l'obbligo di dimora, per un figlio della suocera del deputato. Le misure riguardano appartenenti al Consiglio d'amministrazione della Cooperativa Sociale Integrata Caribù. Nei loro confronti le accuse sono, a vario titolo, di frode nelle pubbliche forniture, bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e autoriciclaggio. Intanto i lavoratori della Caribù protestano. Un gruppo si è costituito parte civile nell'udienza preliminare del processo.